Ciao amici, io sono Jackie, lei è Sam e oggi ci sfideremo a Mario Kart Deluxe 8! Tanto più giocatori, quindi due giocatori, due. Gran premio, corsa, sfida, battaglia. Gran premio. Le proviamo un po'. Va bene. 50 cc. No, difficoltà io direi... 50. Io direi... 100. No, facciamo media. 100. Media, media. Ok, ok, media. Che fa... Ah, vibra! Aspetta, aspetta, non capisco. Premi LR. Dov'è LR? No, aspettate, anche per due giocatori. Ah! Premi LR, 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 LR. Ok, ora dobbiamo scegliere il nostro personaggio. Ok. Io... Dove sono? Ok. Puoi scegliere quello che vuoi. Io voglio Mario. Ok. O classico. Io voglio il fungo. Eccola! Dov'è il fungo? Puoi scegliere anche una femmina? No, no. No, vabbè. Puoi anche cambiare il bolide. Bellissimo, questo non mi piace. Fa vedere, fa vedere. Con la moto tutta la vita. Perché io il mio bolide ha un punto esclamativo a fianco? Non lo so. Lo scelgo? Vai. Dai, io lo scelgo. Rischiamo. Allora, io prendo la macchinina classica, dai. Vediamo le ruote. No, vabbè. Vabbè, adoro. Cioè, guarda qua che ruote. No, anch'io la macchinina classica. Sono troppo abituata. Vai. Macchinina classica con ruote della Madonna. Questa è la macchinina classica. Bello. Allora, io mi prendo. Penso che mi prenderò questo. Vai, io ce l'ho. Parapendio mi sono presa. Io questo. Ok, ci siamo. Questo. No, non la prima, ti prego. Parco acquatico. Dai, ti prego, voglio fare il parco acquatico. Non l'hai scelta. Che si fa? No, non l'ho proprio presa. Ok. Parco acquatico. Aspetta un attimo che non capisco. Ah, non posso scegliere. Cosa no? No, guarda. Ci sono tutte queste? Ah, ci capirò. Allora, facciamo questa. Aiuto, Jackie. Aspetta. Non so qua. Ok, nel prossimo video che farò, chi perde, tira la panna in faccia all'altra. Nel prossimo video. Come si fa? No, dai, però, Jackie. Aspetta, aspetta. Sto facendo giocare così. Ah, con la, con la si fa. Dove vai con la? Scusami. Eh, dai gas. Dai gas, dai gas. Oh, madonna. Ok, ok, così, ok. Così, 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 così. Sembra mio nome quando guida. Ma come faccio? Guarda cosa ho fatto. No, aspetta. No, Jackie era mia. Non capisco. Sì, ma non vale. Tu l'hai già provato. Io no. È la prima volta che ho provato. Non l'ho provato, vai. È la prima volta che ho provato. Falsa. Giuro. Questa è la lontogna. Aspetta, aspetta. Uoooooh. Si curva, si vola, si vola. Ah, sì, no, dai, ma poi lo stai. Opa, l'alero. La banana e l'alero. Cioè, ma ti rendi conto di quanto è plano? Adesso tanto arrivo io, Jackie, c'è stata l'era. Ma ce la stai facendo? Sono nona, ero dodicesima. Questo per me è un super traguardo, Jackie, non so se ho capito. Ma io non capisco questo. Ma perché mi giro? No, io veramente. Mi vedi? Non ti vedo. Guarda che sono io, guarda che sei qui. Cioè, ma raga, guardate, ho visto tutto qui. No, ma ragazzi, è giusto veramente. Io non gioco neanche più qua. Ho gioco, no. Guardi, guardi, qui addirittura ne ho due scelte. Opa. Ma allora, secondo me... Volo di qua. Ah, sali. Aiuto. Morettina tattica. Ma perché io non ho scelto queste ruote, dunque? Voglio fare protesta. Neanch'io, ma sono... Le ruote, non erano apposta. Aspetta, aspetta, volo, volo di qua. Oh ragazzi, non vorrei dire, non vorrei dire. Sono sesta. Aspetta. Io sono concentrata. Olè, si vola, si vola, si vola, si vola. Ueppala lera. Bim, 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 bim. Cos'è questo è palalera? Ueppala lera. Guarda che vuoto. No. Sevi. Vini. Ho vinto. Ma scordi. No, non ho capito di calire. Hai vinto? Ho vinto. Ho vinto, sì. Cioè, uno ha cercato di uccidermi. Ok. Ma amici, gli ho tirato il guscio della tartaruga addosso. Ottava, ragazzi. Troppo forte. Ottava? Ma io cambierei comunque. Cambiamolo, non mi piace? Neanche a me. Cambiamolo. Abbandoniamo. Abbandonato. Proviamo battaglia palloncini. Allora, io adesso cambio autovettura. Devo prendere la rosa, cioè. Oh, questa, questa, questa la corsa. Anzi, la moto. Prendiamoci la moto, entrambe. Che dici tu? No, niente moto. Io voglio la mia rosa. Che mi sia ditta. Io con questa, perché è tattico, è tattica la cosa. E con questo ero un planino sopra. Il quad con le ruotine, no? Con il ruotone. Eh, certo. Ok. Il deltaplano non lo voglio. Io ci sono. Obbligo al deltaplano. Questo. Vai. Guarda che bella. Battaglia palloncine. Pida individuale. No, sfida squadre, sfida squadre direi. Oggetti normali, oggetti devastanti. Durata gara tre minuti, va bene, dai. Vai. Che così la proviamo. Ok, no, no. Siamo contro. Sì, contro, contro. Ti vuoi squadra? Contro, cioè. Aspetta. Ah, possiamo scegliere, possiamo scegliere. Dai, ti prego, scegliamo il dolce. Dolce, dolce regno. Però questo è Palazzi di Luigi. Che è un po' horror. Passiamo il Dolce, dolce regno e poi Palazzi di Luigi. Vai, Dolce, dolce, dolce regno. Vai, Dolce, dolce, dolce regno. Allora sai, te lo dico io come. Mi sa che devi lanciare i cosi. Sai che lancio? Secondo il mio punto di vista. Non lo so, non capisco. Oddio, che bello però, vorrei mangiarmi tutto. Allora, mi sa che ti voglio di lanciare addosso. Un po' così. Ah, sì. Capito? Alla dietro. Alla lì. Ah, ok, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Guarda qua come vi piace scoppiare a tutti. Oh, ragazzi, te l'ho scoppiato uno. Te l'ho scoppiato uno. No, non me ne scoppiare. Eri palese tu, eri palese tu. Ah, allora si può scoppiare anche gli dorsi che non ho capito. No. No, ah, mi sa, no. No, no. Allora, comunque è impossibile, guarda, zero. Non capisco. Mi è tutti, tu. Te ne manca uno te, Jackie, eh? No, io ne ho quattro. E bisogna avere cinque, infatti. Non ho capito il gioco, sinceramente. No. Questo è il mio punto. No, mi sono ucciso da sola. Ma se mi fermassi, mi nascondessi da qualche parte? Cavolo, tu mi troveresti? Certo. Ti guardo da lontano. Ok, l'ho mandata qualcuno, non so chi. Spero che nessuno mandi a me. Ah, ok, 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 ok. Ho delle novità, ho delle novità. No. Tu sei Melania. Tu sei invisibile, non mi trovi. Ma veramente? Sì. Sì, oh mio. Qualcuno mi ha lanciato la... No, non vedo niente. Guarda come sono. Ah, ah, ah. Non sei tu. Abbiamo vinto, ragazzi. Come hai vinto? Guarda. Ma tu hai vinto i paloncini? Sì, ma siamo in tanti. Io non ci sono solo uno. La squadra, la squadra. No, raga, non ho capito. La squadra che vince. Allora, dobbiamo imparare, perché non è che possiamo continuare così. Prossima gara. Prossima gara, questa volta me la sento buona. No, mi sono fermata. No, ma io non ho capito. Cioè, io sono volata. Perché ci sono le spalle? Mario Metallo, ma tu quale sei? Come faccio? Come faccio? Non capisco, non capisco, io non capisco come cavolo faccio se mi pescale, essendo una motocicletta. Guarda, lì c'è il link. Mi piace molto. Ecco, io sono esplosa. Molto bene. Ma sono stata io, amo? No. Sam, mi sa che sono stata io. Io non ho capito come fare. Qualcuno mi può spiegare. Con questa devi lanciare la roba. Ti devi schiampare solamente se hai i funghetti rossi. Ok, via i funghetti. Io la vedo molto dura questa partita, qua piove. Cioè, come hai fatto ad andare fuori? Anche io voglio andare fuori. Io sto continuando a girare intorno e mi sta venendo il vomito. Ho perso un palloncino. Godo. Ho perso un palloncino da sola e ne ho perso un altro. No, è rimasto un palloncino. C'è solo un palloncino? Sì. Ragazzi, è il momento di andare a Jacqueline a farglielo scoppiare. No. Dove sei? Dove sei? Dove sei? Non mi vengo a prendere. Io non capisco come muovermi, c'è tutta storta. Allora, io non capisco. No! Avete visto come ho schivato quel quadro? Aspetta, 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 aspetta. Ma allora va andata a quel paese. Andrea, Andrea, non fa! Ti ho preso io. Te lo giuro, ma te sei un po' addormentata comunque. Non capisco, da. Ho preso una squadra di un altro. Morta? Guardate che sono la queen. Guardate che sono la queen. Perché sei la queen? Non lo so, ho la crocina. L'ar queen di questo gioco. Hai fatto più kill di tutti, secondo me. Questa è gravissima, ragazzi. Questa è veramente grave, ragazzi. Questa è veramente grave. Mi rimane ancora un palloncino. È la quarta volta che cerco di concedere qualcuno. Sì. Abbiamo vinto. No! Guarda, Jackie. Io sto veramente brava. Ho fatto due kill. Abbiamo vinto noi. Mi spiace, so che la perdita è brutta, però bisogna accettare anche il sconfitto in questa vita. Prossima gara. Ancora? Abbiamo quattro gare. Wow! Però non ci sono stati in fantasmi, non mi è piaciuto. Pensavo più oro. Pensavo più oro. Secondo me farei base lunare. Però è poco colorata. Secondo me il percorso guerra è top. Vai. E poi farei il cartodromo. Voglio le cose colorate. Mi piacciono. In questa sfida invece tipo ci ricorreremo, ok? Quindi sarà vieni, vieni qua, vieni qua. Sto per uccidere Samara. No, Jackie per favore. Sto per uccidere Samara. Oddio, siamo in due lati completamente diversi, hai visto? Ma adesso ti vengo a prendere. Ti puoi fare, ragazzina. Dove sei? Tu mi sei messa a fianco comunque. Sì, sì, ma adesso ti vengo a prendere, bella mia. Che fai si dormi un po' troppo, ragazzina. Povera. Ecco, mi sono colpita con il mio stesso guscio. Questa è la mia vita. Non so se l'hai visto. A te sì che sei brava. Mi piaci quando... No, dai, basta! Ma ti sei ripresa. Ho per iniziato. C'hai già tre palloncini. C'hai già tre palloncini. Non fanno piangere. Io secondo me... Allora, è arrivato il momento, è arrivato il momento. Poi non ti ricordi proprio il gioco, cioè... Abbiamo tre palloncini, stai perdendo come se non c'è nessun domani. Perché io pensavo che perderli, loro voleva dire vincere, capito? Mi sa che hai sbagliato il gioco. Forse... Ecco Roi. E tu? No! No, io vado, vado, vado. Io non gioco più. Ucciso? No! Questo è il karma. Vedi? È ucciso. Samara. Samara, chiami qua. Eh, vorrei, ma mi va peggio. Vorrei, ma non posto. E ancora un altro estate arriverà, e compriremo un altro estate... Quello è un ladro! No, dai, io... Però, ecco Roi qua. Guardate Samara. Samara che corre. Eccola, Samara che corre, guardatela. Eccola, eccola lì. Sta correndo, malamente. E adesso viene colpita, va. Io non ho ben capito, cioè, che te lo giuro. Cioè, io sto provando a capire. Io ti ho così per puntare. No, ragazzi, non avete capito. Io sono qui da due ore, e lei ora mi dice che va tenuta là. Io ho tutto il gioco che sto facendo senza... Ah, ecco, perché non camminavi. E' là, vabbè, vado allora, cioè... Vabbè, vado. No, no, va bene, va bene. Quanto prima avete vinto? Mi vinto subito. Roi, 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 ti devo prendere. Roi e Samara, ragazzi. Come ti chiami tu, come ti chiami tu? Non lo so. Finita per sempre, te lo dico. Samaritana sto arrivando. Eccomi qua. Eccomi qua. Quattacca! Mi ha colpito un'altra squadra. Mi ha proprio distrutti, li ha distrutti, li ha distrutti. Cioè, chi? Dove sei? Stai a 12 e 13 per noi. Samara, dove sei? Olè! No! Così? È possibile? Sì, perché... No, no, è quanti palloncini ha l'altra squadra. Quindi è possibile che ti abbiamo... Però per ora... Per ora, per due punti, sta vincendo la mia squadra. Abbiamo l'ultima partita. Cartodromo! 3, 2, 1... Vinciamola insieme. Uno. No, questa sarà la battaglia finale per scoprire chi vincerà questa prima sfida. Ah, vediamo. Ho paura. Cioè, voglio vincere io. Perché ora stiamo 1, 1, 1, 1, 1. Quindi 2 a 1. No, conta nei punti direttamente. Quindi siamo 37 e 35. Se voi fate due punti in più... Guarda questa pista com'è storta. No, bellissima questa pista. Guarda, c'è anche Mario Kart. Allora, io sono pronta. È perché sono le labbra, le labbra pompose. Vai. Si vola. Si vola. No, fighissima sta pista. Guarda, sono obliqua, sono obliqua. Anch'io. No. Vabbè, adoro. Allora, un po' qua. L'estreo obliquo. Un po' qua. Non capisco. Vola. Mi sono auto-lanciata una da te. Ma dove sei? Dove sei? Sto venendo a prendere, sei tranquilla. Ti lancio una banana io, toh. No, Roy non era quello. Procediamo. Ragazzi. Percedere dritto. Amici, a me dà molto fastidio il fatto che non riesco ad andare dritta. E sto sfiorando tutti i quadrati. Cioè, non capisco. Link ha già due... Cioè, la vostra squadra è veramente pessima. Perché? Allora, aiuto. Ma a me mi sta estraendo delle tartarughine verdi. Le ho lanciate. Ok, anch'io le tartarughine verdi. E adesso compiro Samara. No, no, no. Ho un fuoco, un fuoco. Sto lanciando fuoco ovunque. Ok, i cuorellino. Vedo Samara. Guardate, Roy è Samara. È Samara. Andiamola a prendere. Tac. No. Ho schivato il coso. Il quadrato? Sì. Anch'io. Continuo a schivarlo. E l'ho preso. Io sono molto fritta. Eccola, Roy. Eccola, Roy. Eccola qui. Samara. Samara. Eccola, ho perso un palloncino. E non riesco a prendere i quadrati. Devo prendere il quadrato. Ah! Hai preso la mia bomba! Hai preso la mia bomba! Aspetta, aspetta. Che volo, 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 volo. Premi il quadrato. Prendi il quadrato e vediamo che cosa mi viene fuori. Abbiamo... Adesso vado a rubare subito un palloncino. Non della mia squadra. Quelli della mia squadra che mi colpiscono. Ma io... Vanno bene? Perché hanno capito che una persona squadra come te e non va affatto bene. Volarci! Allora, no. Io intanto ho due palloncini. Ovunque... Ho due palloncini. Hai meno palloncini di me. Cioè, io mi vergognerei. Adesso te lo dobbiamo rubare uno. Roy! Vieni, vieni. Dove sei? Ti aspetta a braccia aperte. Mi hanno ricolpito. Vorrei dirtelo. Ti sto aspettando a braccia aperte. Mi hanno colpito. Mi stanno per uccidere. Amici! Pochino ovunque. Perché... Eccola! Mi va sempre bene. No, l'ho mancata. Pochino ovunque. Ah, io ho fatto molto male. Mi piace molto Mario Kart. E quindi ho deciso di rubargli un bel palloncino. Ah, questa fa parte della mia squadra, ragazzi. Abbiamo vinto di nuovo. Ma tu sei proprio nella squadra dei perdenti, ho notato. Ho notato che tu sei nella squadra dei perdenti. Avete vinto voi, Jackie. Abbiamo vinto noi, ragazzi. Sì! Ok, amici. La sfida è finita, ma secondo me ho vinto io. Ho vinto io. Io, amici. Io. Io e basta. Samara, ho detto io. Ciao. Ah! Ciao. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima sfida. Ho vinto io! Ciao!